ti faccio un assaggio alla testa che ti andrà proprio a rigenerare il coconut ciao 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 grazie di essere qui 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 oggi vado dritta al punto faremo dei nuovi trigger non saranno tutti nuovi nel senso inediti su questo canale ma saranno alcuni mai fatti su questo canale altri fatti magari solo una volta e che sono stati proposti nell'ultimo periodo quindi comunque considerati nuovi da me infatti partiremo proprio con un trigger che vi ho fatto vedere un po' di tempo fa ma che appunto voglio riproporvi però ci saranno tre invece trigger mi sembra due o tre che non ho mai fatto sul canale e metterò i crediti di questi trigger in realtà ho di uno in particolare giù in descrizione quindi fra qui non so se l'avete mai sentito ma ci sarà anche la coconut si chiama coconut rain ma fa coconut crack comunque e partiamo proprio dalla ragnatela quindi dal togliere la ragnatela ma vi voglio assicurare l'altra volta ho sbagliato perché pensavo di averli tolti nello spazio che si vedeva invece in realtà no non ci sono ragni li ho tolti quindi proprio non c'è rischio che si vedano e mi scuso che l'altra volta a un certo punto si vedeva tipo un mezzo ragnetto finto non ci sono non vi preoccupate è sicuro e io adoro questo trigger ma che cosa hai sul viso? ma che cosa è successo? aspetta che cerco di toglierti questa cosa che è sul viso allora ok comincio a vederci un pochino allora vediamo qui vediamo qui aspetta no perché ma come hai fatto? aspetta qui ci siamo quasi ok aspetta che quel cosino ancora qui tra i capelli pensavo ne avessi di meno fra i capelli aspetta allora che me ne occupa per bene ecco qua allora pianino vediamo liberiamo tutto ecco calma non c'è fretta ok non vorrei prenderti gli occhi ecco qua perfetto perfetto adesso ma come è possibile anche di lato aspetta allora un po' di pazienza io sono qui allora vediamo intanto tiriamo un po' via ok ok si parla un pochino di fili allora ok ecco qua aspetta che quel cosino anche sopra lo togliamo in modo veloce aspetta 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 ok perfetto perfetto ho tolto anche l'ultimo ok adesso è tutto a posto ho tolto tutto 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 e adesso io vorrei fare subito l'altro trigger visivo di questo video così dopo magari potete chiedere chiedere chiudere gli occhi preferisco sempre a fare i trigger visivi all'inizio ma vi ricordo siete già arrivati fin qui di mettere un mi piace e di lasciarmi un commentino sul vostro trigger preferito su cosa avete mangiato a pranzo quello che volete davvero ma lasciatemi un commentino un mi piace di supporto ok adesso appunto passiamo allo scanner mi è piaciuto tantissimo l'ultima volta lo scanner scanner e quindi andiamo a scannerizzarti ok oggi andrò a passarti sul viso due tipologie di scanner che vanno ad analizzare dei dati diversi ok quindi vanno proprio a fare cose diverse anche se scannerizzano entrambi il viso ok partiamo da questo scanner bellissimo rosa piccolino che andrò a passare piano piano sul suo viso ed è normale che ti si distorciano un po' la vista ok quindi vado eccoci qua di lato lo faccio passare scorrere scorrere sul tuo viso lateralmente dall'altra parte dall'altra direzione in orizzontale in orizzontale e adesso circolare e adesso circolare pian piano lo allontano e lo riavvicino e lo riavvicino e lo riavvicino e lo riavvicino molto bene adesso ultima cosa mentre passo lo scanner tu guarda di lato ok facciamo un po' anche di visione periferica quindi segui il mio dito segui 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 e guarda qui leggermente fuori dallo schermo ok e di nuovo e vado leggermente più veloce ok vieni ad allontanare e riavvicinare e riavvicinare e riavvicinare perfetto poi di nuovo ricominciare a guardare qui adesso andrò con un altro scanner che è composto da due sensori ok che ti passero sul viso ok quindi cominciamo qui un altro perfetto passiamo adesso alla Coconut Rain mi sembra che si chiami Angelica, la ragazza che ha inventato questo trigger ma è molto simile come concetto a quando io, non so se avete presente, quando faccio il massaggio alla bambolina che faccio l'ovetto, che si spande in testa tutti i prevedini, il concetto è questo semplicemente sul viso, quindi il concetto è che il cocco si spacca e il liquidino scende 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 coconut 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 crock 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 coconut crock coconut coconut crock coconut 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 crock adesso lo faccio un po' più vicino al tuo viso coconut 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 crock 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 e adesso un più distante coconut 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 crock 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 ok, spero che anche questo trigger ti sia piaciuto, non avevo più fiato e ditemi se vorreste magari che aggiungessi questo trigger anche nei video di mood sounds e queste cose qui ok, adesso è ora di provare un altro trigger un po' particolare che mi avete segnalato voi e vi scriverò il nome dell'account qui sotto in descrizione perché non mi ricordo la ragazza che l'ha fatto però è il ricreare il suono del temporale, è veramente pazzesco come fa lei che farà un po' la parte del vento credo Grazie il secondo strato è fatto da un asciugamano rovidino questo penso siano i lampi e tu non è scusate ok, mettiamo sopra proviamo e effettivamente sembra molto dei lampi ok, mettiamo sopra ok, mettiamo sopra niente, ci ho provato con due cose diverse ma non è venuto perché non si sentiva abbastanza e perché non ho una pastiglia effervescente come faceva la ragazza, vi giuro non ce l'ho in casa non pensavo di non avercela quindi faremo finta di esserci riusciti e aggiungerò in sottofondo solo di una pastiglia effervescente così faremo il tutto insieme, ok? un mio rando un po' 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 speriamo sia venuto bene prima di passare agli ultimi due trigger che comunque avete già visto su questo canale e uno avete anche ascoltato un pochino nello scorso video vi presento questo oggettino che è un massaggio a testa aspettate un po' carino ecco adesso facciamo questa cosa ma sulla tua testa ok? quindi ti faccio un po' assaggio la testa che ti andrà proprio a rigenerare un po' 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 anche dall'altra parte ti porto un pochino i tuoi capelli e vado a farti un massaggio da questa parte li senti questi laghetti morbidi che vanno a massaggiarti la tua pelle è come se stessero un pochino aggrattando in modo piacevole il tuo cuoio capelluto sono morbidi ma il contempo senti bene la pressione ok ok e adesso andiamo un pochino proprio sopra ok? sempre gusto un massaggio brillante bellissimo del proprio brillante del proprio e adesso andiamo in e adesso andiamo un pochino molto bene spero che questo massaggino alla testa vi sia piaciuto vi giuro è stupendo anche come sensazione e è nuovo non l'ho mai provato però vorrei tantissimo provarlo cioè lo proverò appena mi farò lo shampoo lo proverò sui capelli per distribuire lo shampoo secondo me è stra rilassante vedremo se volete se volete vi lascio il link anzi se siete interessati vi lascio il link c'è in descrizione di questo oggettino ultimi due trigger andiamo a usare questa penna che su una carta particolare fa un suono secondo me molto bello è molto distinto molto chiaro rispetto dalle altre penne a tante altre penne vado ad usare infatti questo quaternino che è fatto di carta riciclata credo non saprei comunque è una carta molto più spessa con molta più texture molta più beh non so come dire vi giuro imbarazzante ma non so dire in italiano comunque non è liscia è tipo sgranata vi faccio sentire perché è bellissimo il suono inoltre e inoltre anche questo che fa rumore ragazzi io amo questo trick allora non so 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 Grazie a tutti. 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 Buonanotte. 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 Sogni d'oro. Buonanotte. 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 Buonanotte.